Gentili telespettatori, buona giornata. Supermedia dei sondaggi politici, Utrend, la media degli ultimi 15 giorni. Il confronto con due settimane fa. Fratelli d'Italia guadagna lo 0,2 e passa al 28,7. Il PD perde lo 0,2 e scende al 19,7. Il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,4 al 16,5. La Lega perde lo 0,1 al 9,2. Forza Italia perde lo 0,3 al 6,9. Azione 3,8, Verdi sinistra 3,4, Italia Viva 3%, più Europa 2,3, Italexit 1,9, Unione Popolare 1,4, Noi Moderati 1,1. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Arrivederci e grazie.